Come nasce la tua passione per questo? Io ho iniziato quasi un anno fa più o meno e appassionandomi subito perché mi avevano già spiegato delle campane. Io abito a Chiama e quindi avevo già un po' addocchiato le campane. Poi quando ho iniziato veramente a appassionarmi ci hanno fatto delle lezioni e ci hanno insegnato bene come suonare le prime canzoni più facili. E come si coltiva la passione per fare il campanale? La passione si coltiva. Avevo sette zii che suonavano le campane. Adesso purtroppo sono passato la miglior vita e sono rimasto solo fino a che il Signore mi darà la salute e cercherò di andare a suonare le campane. Da quanto tempo lei suona le campane? Che suono le campane sarà 60 anni. Mi è rimasta la passione. Io faccio parte della società dei campanari Liguri e sono contento di partecipare. È un merito e sono stato anche campanaro al mio paese e continuo sempre a farlo. Ho aggiustato le campane, ho tirato su le campane nuove. Se lei dovesse definire un tratto che unisce tutti, qual è? La passione per... si può dire anche la musica, anche se tante musica non ne capiamo niente, però a orecchio riusciamo a esprimere questa nostra arte. È proprio frutto di una passione che è interiore. Mi ricordo quando ero bambino che ero sempre con la massima attenzione verso i campanili, poi piano piano ho iniziato a suonare.